Vedo che abbiamo spiegato qua come è la struttura Devi abbassarlo qua, se no lo scendi a te Io appunto ho spiegato che solitamente si usano tempi pari per fare una strada Anche qui non è sempre vero Allora, ci sono casi che magari ci sono sempre 16 barretti strofa Però il rapper per proprie esigenze stilistiche decide di usarmi a 15 Quindi viene fatto un 15 sedicesimi e andando a usare tempi dispari Che poi non è proprio possibile la situazione perché comunque Grazie 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 Grazie